Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Stavo preparando la valigia perché domattina alle 5 devo partire per la Spagna, ma è stato appena licato il trailer della nuova mappa marocchina. L'ha postato su Reddit l'utente Velocity Control, dopo averlo ottenuto dai profili ufficiali di Ubisoft Thailandia. Non so in che modo. Vi lascio al video, chiudo la valigia e cerco di farvene un altro più dettagliato con l'analisi approfondita di tutte le immagini. Attivate le notifiche per non perdervelo e seguiteci su Instagram. Vi lascio il link nel commento fissato in alto. Non potrò fare video nei prossimi due giorni, ma seguirò comunque tutte le notizie e i link per parlarvene proprio nelle storie del nostro profilo Instagram. Lasciate un like, condividete il video con tutti i vostri amici e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.